Chi può ricorrere alle cure dell'ospedale Santa Viola? Chiunque abbia subito di recente un intervento chirurgico o di tipo ortopedico. Gli utenti in dimissione da ricovero ospedaliero ma che hanno bisogno di un'assistenza sanitaria continuativa. Al presidio ospedaliero Santa Viola di Bologna, accreditato, quindi che fa parte del sistema sanitario nazionale e certificato, si può trovare la soluzione per proseguire il ricovero e raggiungere un ulteriore recupero di quelle che sono le autonomie funzionali e motorie di un paziente. L'ospedale Santa Viola è accreditato e certificato. Cosa significa esattamente? Accreditato significa che ha dimostrato il possesso di ulteriori requisiti a differenza di altre strutture che sono semplicemente autorizzate. Superando una verifica difficile è entrato così a far parte del nodo della rete dei servizi sanitari regionali per cui il paziente che arriva in accreditamento non paga assolutamente nulla. L'ospedale Santa Viola è anche certificato e significa che è conforme alla normativa internazionale UNI ENISO 9001 e supera annualmente una verifica esterna imparziale a tutela e garanzia degli utenti. Quali servizi vengono garantiti al paziente durante il ricovero? Un'assistenza medica di un team polispecialistico, le cure di uno staff infermieristico molto preparato ed un'attività riabilitativa seguita da un team di fisioterapisti molto capaci in una palestra spaziosa molto confortevole dotata delle più moderne tecnologie. Inoltre l'ospedale Santa Viola offre un'assistenza psicologica ai pazienti e ai familiari in base alla necessità o su richiesta. I nostri punti forza sono la possibilità di far vivere una degenza in un ambiente confortevole, in camere spaziose e di creare la possibilità di creare un progetto per ogni paziente tenendo conto dei suoi bisogni e del contesto familiare. Inoltre l'ospedale